Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati al vostro amico Lippidwell200 Siamo qui oggi su O-GAME Allora ragazzi, oggi effettueremo la nostra prima spedizione E che Dio ce la mandi buona, manderemo in spedizione i nostri incrociatori Allora, no, la distanza da coprire è troppo lunga Quindi magari le mandiamo in 345 No 322 330 dai Sì, le mandiamo in spedizione in questa zona qua 2, 330, 16 Nessuna cosa Inizia spedizione Perfetto Adesso Parte retenta Ci concentriamo Intanto guardate che ci sono ancora le cose di Halloween Tipo le zucche così Adesso Ci costruiamo Un po' di difese Sì, ne facciamo 26 Va bene Arriviamo in totale di 228 Lato del genere Va bene, va bene Tra 24 minuti La mia Mia La mia prima spedizione Su questo nuovo account Avrà Esito Per poi dopo Ritornare Ah, vi devo far vedere anche nel cantiere da vale Com'è Qua abbiamo anche le streghe Che abbiamo le streghe di Halloween In realtà le avremo le renne che volano E chi lo sa E chi lo sa No, però comunque è un'idea carina Nelle risorse invece non c'è niente Troppo Io ho quasi quasi Visto che sono qua Nelle risorse Potenzierei un po' La centrale di Dauterio Che vista quella più arretrata La potenziamo un attimo Nel tutorial Sia dove cazzo sono Eh Devo potenziare Sono Devo ancora finire il passo 3 Che mi mancano due livelli La centrale di Dauterio Qua rinomi Vabbè rinomino un pianeta Lo faccio adesso Pianeta madre Riepilogo Sempre se mi ricordo come si fa Abbandona Rinomina Nuovo pianeta Lo chiamiamo Lipide No Eh Sì no dai Lipide We Dai In onore dei vecchi tempi Ritorna Il nome del mio primo pianeta Poi dopo quando ne avremo altri Gli daremo Un po' i nomi Chiamerò uno ancora Titan Perché mi piace troppo Quel film ragazzi Mi ricordo troppo La mia infanzia Ah A proposito Nell'alleanza Vediamo se è voluto arrivare qualcuno Che l'avevo fatta Però è da tanto che Non ci salgo No no Niente Angelio Nome Angelio Scuri Che l'avevo presa dal Anzi no Visto che siamo Il prossimo Quasi qua Lo chiamerai mondo Lo chiamerai mondo forgia E adesso perché l'ho chiamato Ah ma c'è un fantasma Madonna che spavento Figa l'ho visto adesso C'è madonna che spavento Ho visto C'è visto Cazzo è quello E niente Quasi qua Il prossimo Mi chiamerei mondo forgia Dopo Titan Adesso vedi che mi imbandono gli orchi Anche i no game Arrivano gli orchi Ragazzi Niente Ah si Voglio dirvi un paio di novità Che arriveranno sul canale La prima che Fino a dicembre Non arriveranno Sere nuove Dovete aspettare 13 dicembre Che inizierò Sere nuove Perché ho appena iniziato Resident Evil 3 Far Cry Che è ancora Siamo ancora Agli albori No Far Cry Doviamo adesso Vi dico cosa devo fare Dobbiamo recuperare le parti Per prendere il coltello Poi prendiamo il coltello Andiamo a ammazzare Vass E salviamo uno dei nostri amici Durante tutto il percorso Prima di andare a salvare Prima di andare a salvare Prima di ammazzare Vass Quindi diciamo che Più o meno Siamo quasi a metà gioco Più o meno Ad occo e croce Warhammer Siamo Beh a un buon punto Non dovrebbe mancare tanto Non lo so esattamente Resident Evil 3 Non ne parliamo Siamo ancora agli inizi 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 Addirittura Far Cry 3 Siamo a buon punto Per la storia Poi devo fare tutto il resto Quindi ragazzi Più o meno Non fino a 13 dicembre Non vedrete Si saranno Sempre queste qua Che gireranno Come serie Non ne vedrete Le nuove A dicembre Ragazzi Inizieremo Serie nuove Vi porterò Vi porterò anche Qualche gioco Di ruolo Tipo Skyrim Tipo Di recente Ho visto Un paio di video No Di World of Warcraft Io Non sono mai Stato appassionato Di questi giochi Però vedendo Il gameplay Non mi è dispiaciuto E ho cominciato Ad appassionarmi So che Non dovrei farlo Dovrei giocarmi Dal primo World of Warcraft A Mist of Pandaria E poi dopo dicembre So che deve uscire Quello nuovo Io vorrei prendermi Mist of Pandaria Perché Boh Mi ispirano Tipando Mi sembrano ispirare Quindi Vediamo un po' Vediamo Scusa E quindi Volevo fare Appunto Mist of Pandaria Quindi ragazzi Avremo Di novità Nuove Belle Parecchie Da fare Su questi giochi Su questi giorni E su questi giochi qua Allora ragazzi Termino qui il video per oggi Se il video di oggi ragazzi Vi è piaciuto Bottate e commentate Ci si vede al prossimo video Ciao a tutti ragazzi